Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con il tragico incidente di ieri mattina sulla Bifernina, il ragazzo che era alla guida della Renault è infatti indagato per omicidio stradale, sarebbe risultato positivo ai test tossicologici per alcol o droga, intanto la procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Luciano Carovillano, l'uomo di Torella morto nello schianto frontale, migliorano invece le condizioni dei feriti, alcuni di loro sono stati dimessi, sentiamo in apertura Enzo Luongo. E' indagato per omicidio stradale il giovane di Campobasso che era alla guida della Renault con a bordo altri due ragazzi coinvolta nell'incidente di ieri mattina sulla Bifernina all'altezza del territorio di Lucito. Il giovane sottoposto ai test tossicologici sarebbe risultato positivo ad alcol e droga, si attende ora l'esito ufficiale degli accertamenti che stanno svolgendo procura e carabinieri. Il ragazzo che tornava a casa dopo la serata trascorsa sulla costa avrebbe avuto un colpo di sonno e l'auto, dopo aver invaso la corsia opposta, si è scontrata frontalmente con un fuoristrada a bordo del quale viaggiava una famiglia di Torella del Sagno diretta al mare. L'uomo che era al volante, Luciano Carovillano, 56 anni, è deceduto sul colpo. La sua famiglia si è affidata all'avvocato Mariano Principe che sta ora seguendo la vicenda. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo che dovrebbe essere effettuata mercoledì. Poi sarà dato il nulla osta per i funerali e nel giorno delle esequie a Torella, come ha preannunciato il sindaco Gianni Meffe, sarà a lutto cittadino. La moglie e i due figli minori della vittima sono rimasti feriti, così come pure i tre giovani a bordo dell'altra auto. Alcuni dei feriti però nelle ultime ore sono già stati dimessi dal Cardarelli. Per Luciano Carovillano e per la sua famiglia quella di ieri doveva essere una giornata spensierata, una domenica da trascorrere al mare, tanto che lui, sua moglie e i figli avevano deciso di partire di buon'ora per godersi appieno la giornata e invece poco dopo le sette l'auto della famiglia si è trovata di fronte quella dei tre giovanissimi campobassani. Un impatto violentissimo, il fuoristrada è finito di traverso sul guardrail, pezzi delle due auto ovunque anche a parecchi metri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco di Campobasso, le ambulanze del 118 che hanno trasportato in ospedale i sei feriti, i carabinieri di Lucito e Larino che hanno provveduto a fare i rilievi la polizia stradale e l'ANAS. E la giornata di ieri è stata segnata anche da un altro tragico incidente stradale sulla statale 158 tra Colli al Volturno e Montaquila. Un motociclista di 44 anni di Alife in provincia di Caserta è uscito fuori strada con la sua moto e ha perso la vita. Fatale l'impatto con il guardrail c'era per noi Davide Gambardella. Ha perso il controllo della sua moto in curva, l'impatto con il guardrail gli è risultato fatale. L'ultimo tragico incidente di una domenica in cui le strade molisane si sono bagnate di sangue è accaduto nel pomeriggio di ieri sulla statale 158 tra Colli a Volturno e Montaquila. A perdere la vita un motociclista di 44 anni originario di Alife in provincia di Caserta. Stava rientrando a casa dopo una scampagnata con amici e parenti a Billetta Barrea quando la moto sulla quale stava viaggiando è finita rovinosamente contro il paracarri. L'impatto si è verificato in una delle curve poco distante il bivio di Colli a Volturno in direzione Napoli, inutili soccorsi del personale del 118. Sul posto anche la polizia stradale, le pattuglie di carabinieri e guardia di finanza. Il centauro è stato particolarmente sfortunato poiché la velocità non era così elevata. La moto ha inchiodato in piena curva ed è andato a sbattere con la testa contro il guardrail. È morto sul colpo tra le lacrime di amici e parenti che hanno assistito al terribile incidente. E voltiamo pagina. Andiamo a Isernia perché è stato arrestato uno dei ladri che in questi giorni aveva messo a segno una serie di furti ai danni di alcune attività commerciali. Il malvivente è stato acciuffato da un gruppo di runner che si allenavano all'alba e che hanno visto l'uomo fuggire dopo l'ennesimo colpo. Sentiamo Barbara Fino. Fine della corsa in tutti i sensi per il ladro seriale che negli ultimi giorni ha messo a punto a Isernia una serie di furti all'interno di alcune attività commerciali. Il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, è stato acciuffato dopo l'ennesimo colpo perpetrato e danni di un noto ristorante in zona Le Piane da un gruppo di coraggiosi atleti della società sportiva Freerunners Isernia, soliti allenarsi proprio lungo il tragitto che confina con l'attività commerciale. I runners, intorno alle 7 del mattino, hanno visto l'uomo incappucciato scavalcare la recinzione del ristorante. Immediatamente, senza paura, si sono messi all'inseguimento del ladro che, ovviamente, non ha avuto scampo data la prestanza atletica del gruppo di sportivi. Una volta bloccato e messo in sicurezza, i podisti hanno immediatamente allertato la polizia che ha portato via l'uomo per l'identificazione. Il giovane di 29 anni aveva con sé anche della rifurtiva, frutto di altri colpi messi a segno. Potrebbe trattarsi proprio della stessa persona, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza della pizzeria prima vittima dei furti. In queste ore sarebbe stato individuato e denunciato dai carabinieri anche un altro uomo. Si tratterebbe di un 34enne, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, colpevole questa volta di aver messo a segno un furto in un ristorante del centro storico. Il proprietario, dopo l'orario di chiusura, era stato avvisato che il vetro d'ingresso era in frantumi. Le attività d'indagine si sono concentrate su soggetti già noti alle forze dell'ordine. Apriamo ora la pagina politica perché il presidente della regione, Francesco Roberti, ha incontrato oggi a Roma il ministro della salute, Orazio Schillaci, oggetto del vertice al quale ha partecipato anche il rettore di Unimol, Luca Brunese, in veste di componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità, è stato un approfondimento sul sistema sanitario molisano. Sono stati ribaditi due impegni, il riequilibrio del debito e l'uscita dal commissariamento. Roberti, che punta a ottenere dopo i primi 30 milioni anche altre risorse in termini di premialità, ha sottolineato come Schillaci abbia sposato la nostra causa e stia avendo un'apertura verso il Molise come non era mai avvenuto prima. Un nuovo incontro è programmato per il prossimo 5 agosto. E ora parliamo del tema delle liste di attesa nella sanità perché è stato oggetto di un intervento in Molise del segretario nazionale dell'Associazione di Base dei consumatori. Chiediamo maggiori risorse in occasione della prossima finanziaria, ha detto Luigi Gliasci. Sentiamo Pasquale Di Bello. È un tema annoso al quale tuttavia da qualche tempo si sta cercando di porre rimedio. In questo senso sia la struttura commissariale che l'azienda sanitaria hanno fatto decisi passi avanti ricorrendo all'ausilio dei privati. Certo è che gli strumenti a disposizione sono limitati e l'arretrato da smaltire ha spesso proporzioni enormi. Parliamo delle liste di attesa in sanità, argomento del quale si sta occupando tra le altre l'Associazione di Base dei consumatori Abaco. Oggi in Molise il presidente nazionale Luigi Gliasci. Sì, c'è un problema enorme delle liste di attesa nel nostro paese. 4 milioni e mezzo di cittadini non si curano più perché inseriti in un meccanismo nel quale non trovano soluzione. Un terzo di quei 4 milioni e mezzo di persone che non si curano sono anziani. Noi crediamo che vadano prese delle misure drastiche per rilanciare il sistema sanitario nazionale e quindi per risolvere il problema delle liste di attesa. Il decreto che è stato appena votato da Camera e Senato purtroppo non risponde alle esigenze e all'urgenza del momento. Noi crediamo che vadano individuate altre strade. Prima di tutto un rifinanziamento importante. Dobbiamo cominciare a riportare quei 30 miliardi che negli ultimi 10 anni sono stati sottrati al sistema sanitario nazionale. Quindi crediamo che già dalla prossima finanziaria vadano inseriti questi soldi. Va potenziata la medicina territoriale. In particolare i medici di base devono tornare a svolgere quella funzione di assistenza ai cittadini. E va introdotto un percorso particolare per gli anziani perché in una regione come Morise dove c'è un territorio che distanzia l'anziano dalle strutture sanitarie c'è bisogno di accorciare queste distanze e quindi di fare in modo che la sanità possa arrivare nelle case delle persone più fragili. A confermare l'importanza della questione sono da poco disponibili online i dati forniti dall'ASREM. È la stessa azienda sanitaria a comunicare che ad esempio per un'ecografia monolaterale della mammella occorrono 261 giorni di attesa mentre per un'attacca al bacino i tempi sono di 214 giorni. E sempre Luigi Iasci, presidente dell'Associazione di Base dei Consumatori, ha incontrato in regione il presidente del Consiglio Quintino Pallante insieme con i consiglieri regionali Fanelli, Gravina e Salvatore. A loro ha rappresentato le proposte dell'Associazione chiedendo che venga promosso in conferenza Stato-Regioni un dibattito proprio sul tema delle liste d'attesa affinché si proceda verso un aumento della dotazione finanziaria del Fondo Sanitario Nazionale. Campobasso procede verso lo spostamento della scuola Dovidio a Selvapiana e quanto è emerso nel Consiglio Comunale di oggi dove a tenere banco sono state le deleghe assegnate dalla sindaca Maria Luisa Forte e un copioso assestamento di bilancio. La sindaca devolve intanto 1000 euro della propria indennità mensile al sociale. Sentiamo ancora Pasquale Di Bello. Assistito da una vistosa bottiglia verde come fosse al torneo ippico di Piazza di Siena il presidente del Consiglio Comunale di Campobasso Giovanni Varra ha guidato i lavori di un'aula chiamata a pronunciarsi su due punti all'ordine del giorno l'assestamento di bilancio 2024 e la modifica al regolamento sulle commissioni consigliari. Aperti i lavori con l'Inno d'Italia a Campobasso funziona così e dopo aver scandito in maniera stentorea il sì finale che nell'Inno di Mameli nemmeno ci sta i consiglieri hanno proceduto ordinatamente all'esame delle questioni non prima che a prendere la parola sia stata la sindaca. Maria Luisa Forte ha annunciato il taglio della propria indennità mensile devolvendo ogni mese 1000 euro al settore sociale poi ha dato conto delle deleghe assegnate agli assessori e ai consiglieri accendendo così le polveri delle opposizioni deleghe improprie sul piano politico e al limite della normativa su quello giuridico hanno detto. Un'anomalia. La norma nazionale prevede che nei comuni sopra i 15.000 abitanti l'indicazione del vice sindaco venga attribuita a consigliere eletto. Nello caso specifico il nominato vice sindaco non è stato eletto al primo turno non sarebbe rientrato in consiglio e non c'entra nulla che poi è rientrato perché altra consigliera eletta nominata assessore ha ceduto a lui il posto. Ma c'è tanta confusione perché ecco questo accrocchio perché non si può chiamare più accordo politico ha previsto anche diversi consiglieri delegati. L'articolo 19 del regolamento prevede che i consiglieri siano delegati a fasi di studio invece oggi abbiamo assistito in aula ad un consigliere delegato, la consigliera Panichella che ha svolto secondo lei le funzioni di assessore al bilancio. Maria Luisa Forte respinge al mittente le critiche o operato dice nella più assoluta trasparenza e nel solco della normativa. Non ci sono sovrapposizioni nell'aggiunta ma c'è stata una ripartizione. Noi abbiamo, ci sono sette assessori, sono consentiti nove assessori e lo prevede appunto la legge, non è stata una scelta né di me come mia come sindaca né della maggioranza. Le deleghe ai consiglieri sono previste dall'articolo 31 dello statuto del comune di Campobasso. in realtà le deleghe restano in capo al sindaco che ha appunto una condivide, ha un'assistenza, una collaborazione da parte dei consiglieri. Lei stamattina ha esordito in consiglio comunale stabilendo che una porzione della sua indennità andrà verso il sociale. Sì, ho stabilito che mille euro della mia indennità ogni mese verranno destinate a un capitolo del bilancio del comune, le politiche sociali, in particolare i patti sociali a cui tutti noi teniamo proprio per sostenere le persone più fragili. Ad intervenire con un discorso deciso e robusto è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Pilone, che commentando la manovra di assestamento del bilancio ha scoperto le carte sul trasferimento della scuola Dovidio a Selvapiana. Si va ufficialmente in quella direzione. Oggi con l'assestamento di bilancio, che vorrei ricordare, è un documento contabile di estrema importanza, si sanzisce comunque lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di accensioni di mutuo per la scuola Ponte a Selvapiana. Quindi anche con il voto, presumibilmente, del cantiere civico, quindi del gruppo che faceva e fa capo al consigliere avvocato Pino Ruta, oggi si approva questo assestamento di bilancio prevedendo che si faccia la scuola Ponte a Selvapiana, nonostante una campagna elettorale dove il cantiere civico ne ha dette di tutti i colori e nonostante un bando esplorativo che l'amministrazione forte, tanto per far vedere e tanto per accontentare i colleghi del cantiere civico, ha fatto ma senza nessuna conseguenza in termini pratici. Il GAL Molise Costiero ha organizzato all'Unimol nella sede di Termoli il seminario sul tema dell'acqua ponica, un progetto che intreccia l'acquacoltura con l'agricoltura per ottenere prodotti sostenibili e biologici al 100%. L'acqua ponica è una tecnica innovativa che potrebbe svolgere un ruolo chiave nella fornitura di cibo in modo sostenibile. Sentiamo Dalila Catenaro. Un tema innovativo che si pone come sfida per il futuro. All'Unimol, sede di Termoli, si è tenuto il seminario sul tema dell'acqua ponica, ossia una tecnica che combina la coltivazione di piante con l'allevamento degli animali acquatici in un ambiente a ciclo d'acqua chiuso e continuo con lo scopo di coltivare le piante e allevare i pesci utilizzando la stessa acqua. Diversi gli esperti provenienti dal mondo della ricerca universitaria e provenienti da aziende che operano nel settore dell'acqua ponica. Tre le amministrazioni comunali coinvolte, Termoli, Campomarino e San Giacomo degli Schiavoni. Tra le attività che il GAL Molise Costiero, che fino a qualche mese fa si chiamava FLAG Molise, vi è anche questo progetto sull'acqua ponica. Questa attività moderna proposta ai vari enti e al vario mondo della pesca e dell'acquacultura è legato allo sfruttamento dell'acqua per l'allevamento sia del pesce che per la coltivazione di piante. Acquacoltura e agricoltura di concerto per ottenere prodotti biologici e sostenibili al 100%. L'intento è quello di avere prodotti ecocompatibili e biologici al 100% con produzioni innovative che possono dare spiragli nuovi alle nostre imprese sia di pesca sia del mondo dell'agricoltura perché questo è un progetto che lega fra l'altro l'intervento del mondo scientifico, dell'università ma di altre società e aziende che operano anche all'estero che portando questo loro know-how danno la possibilità ad aziende del Molise di poter incrementare il proprio lavoro. Tutto per le sfide globali del domani anche perché l'acqua è proprio al centro di queste sfide. Sì, l'uso dell'acqua e non solo dell'acqua a ciclo chiuso è continuato ma anche la mancanza di utilizzo di meno terreno meno ettari alimentari fanno sì che possiamo avere un'economia green a passo con le esigenze del mondo moderno. E restiamo a Termoli perché c'è stata in municipio la visita del presidente del Coni Molise Vincenzo D'Angelo che ha incontrato il sindaco nonché assessore allo sport Nico Balice un incontro nel quale è stato ribadito il rapporto di collaborazione che da sempre distingue il Comune Adriatico e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano Regionale il primo cittadino si è messo subito a disposizione per tutte le iniziative che potrebbero essere organizzate in città ribadendo la totale collaborazione da parte della sua amministrazione comunale. Nell'occasione è stato consegnato dal presidente D'Angelo il gagliardetto del Coni Molise proprio al sindaco. Il progetto Insieme si può dell'Associazione Oltre il Blu di Termoli si conferma un'iniziativa di successo per la cooperativa leader nel Basso Molise nelle iniziative di inclusione dei bambini e dei ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico a Ururi l'evento Blue Day per la consapevolezza in collaborazione con l'ambito territoriale e sociale di Larino e c'era per noi Francesco Di Giacomo. Insieme si può un progetto itinerante partito con il Blue Day il primo di una serie di eventi inseriti all'interno dell'ambizioso sodalizio tra l'Associazione Oltre il Blu di Termoli e l'ambito territoriale e sociale di Larino Un consenso notevole quello raccolto nella piazzetta antistante il caffè letterario di Ururi primo comune coinvolto per ospitare questa iniziativa ideata per promuovere fattivamente l'inclusione ed accrescere in maniera sempre più diffusa la consapevolezza sull'autismo L'inaugurazione dei lavori è coincisa con i ringraziamenti del sindaco del comune ospitante Laura Greco e del dottor Michele Sassano assessore alle politiche sociali di Ururi interessantissimi e costruttivi i contributi della presidente dell'ambito territoriale e sociale di Larino Graziella Vizzarri e dell'assessore regionale Gianluca Cefaratti seguiti dalla presentazione del progetto da parte della dottoressa Eloisa Arcano responsabile del servizio di segretariato sociale del comune frentano la quale non nascondendo l'emozione nel trovarsi immersa in una bellissima onda blu ha espresso la sua grande soddisfazione Valentino Macchiagodena presidente dell'associazione Oltre il Blu ha quindi concluso con un breve excursus sulla nascita e la crescita in poco più di due anni dell'associazione che grazie alla passione e al grandissimo impegno profuso da tutti i soci e dagli operatori è finora riuscita a dare sollievo a ben 51 famiglie del territorio Nella seconda parte dell'evento poi si è proceduti con le attività come previste da programma in un attrezzato ed organizzatissimo spazio i tanti bambini presenti seguiti dagli operatori e dai genitori coinvolti nel progetto hanno avuto l'opportunità di partecipare ai laboratori sportivi e creativi tra i quali percorsi motori strutturati tiro al bersaglio e attività di pittura Contemporaneamente tutti i numerosissimi presenti hanno avuto la possibilità di consumare prodotti tipici molisani nell'area street food dove il servizio ai tavoli è stato affidato ai ragazzi e alle ragazze di Oltre il Blu Alla buona riuscita della serata hanno certamente contribuito anche gli incontri pomeridiani precedenti l'evento durante i quali i bambini i ragazzi protagonisti supportati dagli educatori e con l'ausilio di agende visive hanno ricevuto la necessaria e adeguata preparazione a dimostrazione del fatto che molto si può ancora fare nell'approccio a una problematica che nasconde ancora troppi pregiudizi ma dimostra grandi potenzialità Voltiamo pagina c'è stata una strage di gatti a Campobasso sulla strada che porta Ferrazzano all'altezza delle piramidi tra ieri e questa mattina diversi abitanti della zona hanno trovato gli animali in strada privi di vita dopo essere stati avvelenati casi segnalati sono molti soprattutto tra via Neri e via D'Alena dell'accaduto è stato informato il comune e sono in corso accertamenti e ora siamo alla pagina degli spettacoli che apriamo con il grande successo di Gigi D'Alessio a Campobasso due ore di concerto davanti a 4.000 spettatori il cantautore ha ripercorso 30 anni di carriera e c'era per noi Enzo Luongo Alla fine è stato il trionfo ampiamente annunciato Gigi D'Alessio ha regalato grandi emozioni agli oltre 4.000 spettatori arrivati da tutto il Molise e anche dalle regioni Limitrofe per assistere al suo attesissimo concerto di Campobasso l'area eventi di Selvapiana per l'occasione era stracolma il pubblico ha cantato dall'inizio alla fine tutte le canzoni in scaletta In tutto quasi due ore di spettacolo con il cantautore che appena salito sul palco si è detto felice dell'accoglienza molisana poi ha scherzato sul clima Mamma mia che bella che bella serata come siete belli come siete belli grazie per questa straordinaria accoglienza e finalmente si respira ragazzi io sapevo che veniva a Campobasso e si stava bene perché credetemi questa è la undicesima data che facciamo se mi davano fuoco sentivo meno caldo la scaletta del concerto ha racchiuso oltre 30 anni di successi dai brani storici come Non mollare mai Il cammino dell'età Monamour Quanti amori Non dirgli mai per D'Alessio continue ovazioni e standing ovation e anche colpi a sorpresa come una proposta di matrimonio dal palco di un fan alla sua fidanzata Non sono mancate le canzoni più recenti comprese quelle del nuovo disco poi tanti duetti virtuali con sullo schermo tra gli altri star amatissime come Geogliere lo di Clementino e Annalisa E grande successo anche per la prima serata del festival musicale Vitamina M che ha visto esibirsi nella suggestiva cornice del borgo di San Massimo la cantante romana di fama internazionale Tosca Donati Sentiamo ancora Barbara Fino Vitamina M Matese Musica Molise il festival musicale del turismo esperienziale da un'idea di Simone Sala pianista e direttore artistico della manifestazione e di Sara Perfetto promotrice del territorio matesino la Vitamina M torna a regalare emozioni nel borgo di San Massimo e nella località di Campitello Matese protagonista della prima serata una delle voci più acclamate d'Italia Tosca Donati con il suo tour La Bella Estate La cantante romana è stata accompagnata dal suo storico quintetto formato da Giovanna Famulari violoncello e pianoforte Massimo De Lorenzi alla chitarra Luca Scorziello batterie e percussioni Arabella Rustico al contrabbasso Fabia Salvucci tamburi a cornice l'eclettica artista di fama internazionale nota per la sua voce potente la sua capacità di attraversare i vari generi musicali dal pop alla musica d'autore dal jazz alla musica classica si esibita sul palco di Vitamina M aprendo così la kermess musicale che ha come obiettivo quello di valorizzare le risorse locali supportare l'economia del territorio e creare una connessione profonda tra la comunità e i visitatori che vivranno attivamente l'esperienza immersiva e c'è grande attesa per il concerto di Tochigno in programma domani nel teatro romano di Altilia l'appuntamento previsto per le 21 rientra nel cartellone tra antiche mura promosso dalla Fondazione Molise Cultura e dall'assessorato regionale alla cultura il grande artista internazionale proporrà dal vivo 50 anni di successi e sarà accompagnato dalla voce di Camilla Faustino e dalla sua band Tochigno la cui famiglia è originaria di Toro torna con questo evento nella terra dei suoi avi paterni a Sepino la star internazionale arriva con un progetto artistico che rappresenta un omaggio alla musica brasiliana e un tributo a tutti quei grandi amici con cui ha condiviso musica e poesia Era l'ultima notizia termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte buonanotte musica e 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 buonanotte